Io sono molto contento perché lo screening è di fondamentale importanza. Dobbiamo migliorare moltissimo come persone che lo fanno e qui mi ci metto anch'io che a questo punto correrò a farlo mentre non ho avuto tempo mai fino adesso. Quello che si offre adesso è molto, ma molto di più. Prima pensiamo 4 o 5 posti in tutta la città in cui un paio di volte alla settimana, in orari ben determinati, uno doveva partire, andare, riterrare la provetta, ritornarci e via dicendo. Mentre adesso praticamente centinaia di farmacie uno può ritirarlo in qualunque farmacia, vicino al luogo di lavoro, vicino a casa e tutto e fra l'altro un ulteriore vantaggio che abbiamo cercato di dare grazie un pochettino al sistema logistico che abbiamo messo dietro è quello anche di consegnarlo alla farmacia che vuole. Quindi può ritirarlo vicino al posto di lavoro e andarlo a riconsegnare altre cose. Quindi sono dei vantaggi enormi da tutti i punti di vista. ci sarà anche però chi, ecco una cosa che ci tengo a dire è che abbiamo pensato questa volta è un nostro dovere secondo me anche a chi di informatica poi tutto sommato non la mastica abbastanza perché tutti questi vantaggi sono indipendenti dal fatto di usare o no un'app che noi abbiamo messo a disposizione. Chi ha in più l'app oltre ad essere una vera e propria community che in qualche modo tutte le novità di interscambio di dati, di informazioni con chi fa lo screening ci avrà anche il vantaggio di poter scegliere che la provetta gli arriva direttamente a casa e l'altra cosa è un po' maggiore velocità nell'ottenere il referto nel senso che direttamente appena fatto il referto parte via real time quindi praticamente immediatamente uno ha il risultato mentre nel caso in cui invece non avesse l'app deve in qualche modo aspettare che venga messo per iscritto messo nella busta e arrivare quindi con qualche giorno un pochettino di ritardo. Però essenzialmente il cuore di questa facilità di ritirare e di ridare vale anche chi di informatica non usa assolutamente niente. Voi avete visto come sia con prenoto vaccino ma anche come prenoto salute i Liguri utilizzano molto il sistema digitale ed informatico. All'inizio qualcuno magari diceva in una regione così anziana forse ci potrebbero essere delle difficoltà invece i dati dicono il contrario. No, dicono il contrario. Infatti dico che probabilmente sono sempre meno quelli che non usano i mezzi informatici anche in maniera semplificata, attenta noi dedichiamo, credo che tu lo sappia, una parte importante della nostra progettazione a semplificare. Lo facciamo all'inizio come impostazione dopo che il sistema funziona stiamo ancora parecchi giorni a studiare come ancora semplificarlo per diminuire il numero di volte che l'utente deve dare risposte. mai, mai chiedere a un utente qualche cosa che il sistema ha per non evitare di fare cose. Quindi credo che questo qua però visto che mi sembra anche giusto tutto sommato permettere anche a chi non lo usa di avere il grosso dei benefici credo che qui in questo caso ci siamo anche riusciti. Cassanini, in conclusione praticamente come funziona prenoto prevengo? Ci sarà quindi un'app? Ci sarà sicuramente un'app in cui uno si può iscrivere e a questo punto c'è tutte le comunicazioni e i vantaggi che ho detto io. però può anche andare direttamente da martedì alle ore 8 in qualunque farmacia e ritirare la provetta anche se non si volesse iscrivere all'app perché tutti i vantaggi che ho detto ci saranno perché il sistema informatico anche se non usato in maniera diretta gestisce tutti i flussi in maniera tale che tutto quello che ho detto sulla faccenda di poter ritirare e riconsegnare gli funziona lo stesso. Quindi in verità anche se uno non si iscrive all'app non che non inviti perché c'è un tanto di vantaggi soprattutto sapere cosa succede nel mondo della prevenzione non evitare gli inviti quindi è una vera e propria comunità attiva in questo senso con uno che ha più padronanza delle proprie scelte sanitarie penso che sia importante però non c'è bisogno di scaricare l'app. Il vantaggio è martedì alle 8 e 5 io vado in qualunque delle farmacie quasi tutte hanno aderito a Genova prendo la mia provetta e la riporto in qualunque farmacia questo vantaggio essenziale c'è in ogni caso.